Buonasera e ben ritrovati nel nostro telegiornale. Apriamo innanzitutto con un aggiornamento sulla situazione dei contagi da coronavirus in Italia perché è stato registrato un forte rialzo dei nuovi casi che risultano 1.367 in più rispetto a ieri martedì stando ai dati forniti dal Ministero della Salute. Martedì giorno in cui invece i nuovi positivi al SARS-CoV-2 erano risultati 878. Nelle ultime 24 ore considerate però sono stati fatti quasi 21.200 tamponi in più rispetto a ieri superando la quota 93.500 tamponi. Il Ministero della Salute su questo aspetto ha precisato che questo numero è così alto soprattutto perché è conseguente agli screening sui rientri dall'estero previsti proprio dall'ordinanza del Ministro Speranza dello scorso 12 agosto. 13 invece risultano i nuovi decessi rilevati che portano così il totale da inizio pandemia a 35.458 persone decedute. 20.753 invece gli attualmente positivi al virus in Italia. La regione con più incrementi di nuovi casi rispetto a ieri è la Lombardia con 269 nuove positività seguita dal Lazio 162, Toscana 161 e Veneto 147 nuovi casi. Solo la Valle d'Aosta non ha fatto registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore prese in considerazione. Venendo invece alla Friuli Venezia Giulia oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi. Le persone attualmente positive sono 330 conferma una nota della regione. Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva mentre 14 sono ricoverati in altri reparti. Non si registrano nuovi decessi che restano nel complesso 348. Parliamo ora anche della fumata nera nel confronto sulla scuola tra ministri e regioni. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, denuncia come non siano ancora state fornite le certezze necessarie per l'avvio del nuovo anno scolastico e tra i nodi da sciogliere il trasporto degli studenti, l'organico aggiuntivo e le forniture di banchi e mascherine. Indicazioni chiare in tempi rapidi e quanto richiesto dalla regione al governo per assicurare la riappertura e sicurezza delle scuole il 14 settembre. Dall'odierna videoconferenza tra ministri e regioni non sono emerse novità in termini operativi e organizzativi come rileva il governatore Massimiliano Fedriga. Le zero novità emerse dal vertice tra governo e regioni non rappresentano un esito soddisfacente per la nostra comunità che dopo lunghi mesi di sacrifici merita di ottenere risposte immediate. In caso contrario, il rischio di bloccare l'intero sistema è di non garantire i diritti di famiglie e ragazzi. D'intesa con le altre regioni, il Friuli Venezia Giulia ha condiviso la richiesta di calendarizzare una serie di incontri periodici con il Ministero dell'Istruzione per garantire un avvio ordinato e uniforme dell'anno scolastico. Tra i nodi ancora risolti spicca il problema del trasporto degli studenti, per il quale non sono state ancora indicate a livello nazionale soluzioni sostenibili. Restano grandi anche le incertezze legate alla necessità di disporre di organico aggiuntivo, così come non sono stati definiti tempistiche criteri di distribuzione dei banchi. Per quanto riguarda le mascherine di protezione per gli studenti, non è stato ancora chiarito se saranno fornite dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 o se dovranno essere procurate dalle regioni. A denunciare come sia sempre più ingarbugliata la situazione è anche il segretario della Cisle FVG, Franco Colauti. Se domani non sarà approvato il documento del Comitato Tecnico Scientifico sulle linee guida, che dovrebbe dare delle indicazioni certe su come muoversi, chiediamo alla regione la convocazione urgente in un tavolo di regia, anche con l'Anci, per approntare un piano B che assicuri la piena ripresa della scuola in Friuli Venezia Giulia. E da domani l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina avvierà lo screening sierologico per il personale delle scuole, docente e nonne, ed ai servizi di infanzia, mentre l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale comincerà venerdì. La campagna di screening promossa dal Ministero della Salute della Regione prevede un'adesione su base volontaria e gratuita in due fasi. La prima consiste nel test sierologico rapido sul sangue capillare del polpastrello, la seconda nel tampone nasofaringeo, obbligatorio per tutti coloro che risulteranno positivi al primo esame. Vista la grande quantità di persone da sottoporre al test e la necessità di dare risposte tempestive garantendo la massima sicurezza, si punterà sulla collaborazione operativa dei medici di medicina generale. Per l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina i test saranno eseguiti negli ospedali di Gorizia, Monfalcone e al Maggiore di Trieste, in altri ambulatori messi a disposizione dall'azienda sanitaria e negli ambulatori degli stessi medici di medicina generale disponibili. Per l'azienda sanitaria Friuli Centrale invece i test si svolgeranno al Gervasuta Udine, oltre che nelle sedi dei distretti sanitari di Tolmezzo a Ovaro, Gemona, San Daniele, Quadroipo, Tarcento, Cividale e San Giorgio di Nogaro. Ai medici che aderiranno all'iniziativa vengono garantiti dalle aziende sanitarie come assicurato la Regione sia i kit necessari per i test sierologici sia i dispositivi di protezione individuale e viene assicurato il servizio di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico. Rispetto al Friuli Venezia Giulia adesso vediamo anche degli aggiornamenti su delle operazioni di soccorso che si sono verificate dal tardo pomeriggio in poi, di cui c'è giunta notizia proprio nella tarda serata. Partiamo innanzitutto dal soccorso alpino e speleologico che ha fatto sapere che la stazione di Fornia Voltri è stata attivata intorno alle 19.15 per il mancato rientro di un 88enne di fusea. Un uomo che è partito al mattino e non ha più dunque fatto rientro nella sua abitazione. È stato attivato un piano di ricerca nella zona dove vive e dove è stato per l'ultima volta avvistato. Le ricerche sono in corso, proseguiranno ancora per qualche ora come ci è stato spiegato dallo stesso soccorso alpino e speleologico e poi nel caso non diano i loro frutti, nonostante rimanga un presidio, verranno sospese per riprendere eventualmente domattina alle 7 con base fissata vicino al cimitero di fusea. Sul posto stanno sperando dunque il soccorso alpino e speleologico, il soccorso alpino della Guardia di Finanza con anche un'unità cilofila, vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo e della centrale con almeno quattro squadre. Per domattina è prevista l'eventuale coinvolgimento dell'unità cilofile e della protezione civile e probabilmente sarà anche utilizzato un elicottero per proseguire nelle ricerche. Continuiamo a parlare dei vigili del fuoco ma questa volta di Magnago perché intorno alle 17.30 sono intervenuti per soccorrere una persona che si è infortunata a un arto con una pressa in un'azienda di lavorazione del ferro nella zona artigianale di Magnago. La persona si era già liberata autonomamente dal macchinario quando appunto ha chiamato i soccorsi ed è stata prontamente aiutata grazie anche alla vicinanza della sede di servizio degli stessi vigili del fuoco. È rimasta sempre cosciente quando le sono state prestate le prime cure e poi ovviamente è stata affidata anche al personale sanitario giunta sul posto. Poco dopo invece verso le 18.15 a Fontana Fredda i vigili del fuoco di Pordenone sono dal cantolore intervenuti per soccorrere un'altra persona stavolta ustionatasi in casa in seguito al rilascio e successivo innesco di gas da una bombola di GPL. La fiammata le ha causato un'ustione alla parte superiore del corpo, non ha coinvolto altri su pellettri, dunque l'incendio non si è creato. La persona ferita è stata ricoverata all'ospedale di Pordenone. E dopo questi ultimi aggiornamenti vediamo i titoli della nostra edizione delle 19. La ex caserma Cavarzerani non è più zona rossa, tutti i negativi tamponi ai migranti ospiti fuori dalla struttura protesta dei residenti per la situazione del quartiere. Saremo live. 33 nuovi contagi in regione, terapie intensive però vuote. In Italia sono 1.367. I nuovi contagi dato più alto dai primi di maggio, effettuati però 20.000 tamponi in più rispetto a ieri. Oggi il confronto tra governo e regioni per la riapertura delle scuole per Fedriga non ci sono indicazioni chiare e linee guida si rischia di non partire al via i test sierologici sul personale. Non aveva le necessarie autorizzazioni e così i NAS di Udine hanno messo i sigilli a una struttura per anziani di Gorizia travestita da agriturismo all'interno 10 persone. Musso e lasagna non sono sul mercato, lo ha dichiarato il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino che ha anche affermato che non ci sono offerte per Depol. L'area dell'ex caserma Cavarzerani dunque non è più una zona rossa, sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sugli oltre 460 migranti accolti all'interno della struttura ma non si placano le proteste. Da un lato i cittadini residenti che nella serata hanno partecipato all'ennesima manifestazione per denunciare un contesto sempre più difficile, c'è stata una manifestazione che è stata presentata come politica ed è nata dal passaparola a cui hanno anche partecipato cittadini, persone che abitano in altri comuni e poi dall'altro lato sindaco e assessore Ciani quindi che già da ieri i nostri microfoni hanno annunciato di aver chiesto al Ministero dell'Interno di trasferire un cospicuo numero di persone ad altre regioni. Iniziamo dalla serata con le parole che ci ha riferito proprio da via Cividale nel corso di questa manifestazione con le interviste raccolte dalla nostra Francesca Santoro. I manifestanti hanno attraversato la strada, si sono spostati dal bar all'atrio antistante la Cavarzerani e di fatto se la stanno prendendo con i rappresentanti delle forze dell'ordine e della questura perché stanno dicendo che anche loro dovrebbero reagire, che non dovrebbero essere qua a tutelare delle persone che secondo loro non hanno alcun titolo per essere ospitati dalla Cavarzerani. Ci sono pochi residenti a dire il vero tra tutti questi manifestanti, alcuni di loro hanno espresso il loro disagio, la loro preoccupazione per il fatto che già oggi da quando la Cavarzerani non è più zona rossa hanno visto gente entrare e uscire, sono preoccupati per lo spaccio di droga, dicono che le donne sono preoccupate a girare per il quartiere, quindi i motivi di malcontento esposti sono tanti. Questa è stata presentata come una manifestazione a politica ma di fatto ci sono anche molti rappresentanti di Casa Pound che stanno appunto parlando, parlamentando con i rappresentanti della questura. Lei è un residente, per quale motivo ha deciso di partecipare a questa manifestazione? Io sono venuto a vedere questa manifestazione perché sono un cittadino dinese, soprattutto sono un cittadino italiano e sono veramente esausto, sono saturo di questa situazione che il nostro governo ci sta propinando, ci sta somministrando e noi passivamente dobbiamo accettare tutto questo. Non sono residente della zona, abito a Nimis, però mi sento solidale con i gruppi che manifestano perché manifestano un disagio che è diffuso purtroppo fin da troppo tempo sotto l'indifferenza delle autorità, sotto l'indifferenza di un governo che non è il nostro governo, che io non ritengo legittimo perché non è stato eletto dal popolo, va bene, ha portato e porta l'Italia a una crisi identitaria senza precedenti, l'italiano non è mai stato razzista, l'italiano ha colto, l'italiano ha aiutato fin troppo, va bene, adesso si sta oltrepassando il segno, adesso abbiamo problemi di salute pubblica, abbiamo problemi di sicurezza. Noi non siamo prepotenti, però quello che chiediamo lo chiediamo con fermezza, noi chiediamo al prefetto di Udine che si faccia portavoce col governo, che ci mandi dei militari, che vadano a presidiare i confini e anche a chiuderli se serve, perché noi, specialmente noi donne, vogliamo essere sicure di poter muoverci a ogni ora, mattino e sera, sempre, senza dover avere questa paura di essere aggredite oppure importunate da questi personaggi. Sentiamo ora le parole dell'assessore comunale alla sicurezza, Alessandro Ciani. Questa mattina l'azienda sanitaria ci ha dato il dato definitivo dei tamponi, quindi sono tutti negativi, ovviamente ciò significa che le precauzioni che il Comune, la Prefettura, l'azienda sanitaria in queste settimane hanno adottato, hanno portato risultati importanti a tutela della salute pubblica, perché questo è stato il nostro unico obiettivo. Adesso la Questura ovviamente organizzerà tutti i presidi per fare in modo che la situazione torni alla normalità. La cosa fondamentale però è la nostra richiesta, che pare, verrà accolta, di alleggeri notevolmente il numero di migranti alla Cavarzerani, questa mattina come praticamente tutti i giorni sono stati in contatto con la Prefettura, noi siamo molto molto ottimisti affinché effettivamente questo alleggerimento delle presenze ci sia e ci sia in tempi molto brevi. Quanti migranti vorreste trasferiti in altra sede? Noi abbiamo chiesto che vengano trasferiti almeno 200 migranti, penso che sia una richiesta di buon senso, penso che la città di Udine abbia ampiamente dato in termini di accoglienza. E a proposito di migranti, i nuovi gruppi giunti attraverso la rotta balcanica sono stati rintracciati nella giornata in Friuli Venezia Giulia. La polizia di frontiera nella mattinata ha intercettato almeno una ventina di persone per lo più originarie dell'Afghanistan nell'area di Trieste, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, mentre dalla zona boschiva si dirigevano a piedi verso i centri abitati, tra loro anche alcuni minorenni. A Manzano invece la polizia ha rintracciato un'altra decina di persone, la cui presenza era stata segnalata poco prima a San Giovanni al Natisone. Ci è stato riferito che sono state rintracciate complessivamente almeno 25 persone nelle scorse ore, tra la decina di 10 persone circa ritrovate a San Giovanni al Natisone e poi un'altra quindicina individuate tra anche Manzano e Prada Manzano. I NAS di Udine hanno sequestrato un agriturismo a Gorizia adibito a casa di riposo la struttura in via degli scogli e risultata, stando appunto all'accusa, sprovvista delle necessarie autorizzazioni con personale privo dei requisiti richiesti dalla normativa del settore. Non avevano le necessarie autorizzazioni e il personale impiegato era privo dei necessari requisiti. Stamattina i NAS di Udine hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Gorizia sulla base della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica e hanno sequestrato l'agriturismo silicano di via degli scogli a Gorizia adibito dal 2013 a casa di riposo. L'indagine, che ha portato il provvedimento cautelare, ha preso le mosse da un controllo da parte dei carabinieri nell'ambito della campagna denominata Estate Tranquilla. Emerso appunto che i titolari dell'agriturismo avevano attivato e mantenuto in esercizio in quella struttura una residenza per anziani autosufficienti e non autosufficienti, senza le prescritte autorizzazioni previste dalla normativa di settore, impiegando personale privo dei richiesti titoli professionali. La struttura è risultata ospitare 10 anziani che, su disposizione dell'autorità sanitaria, sono stati ricollocati presso altre case di riposo regolarmente autorizzate. I titolari sono indagati ora per i reati di esercizio abusivo della professione infermieristica, truffa i danni dell'Inps e violazione delle norme urbanistiche in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro. Dovranno rispondere anche di violazioni di carattere amministrativo della normativa regionale in materia di strutture sociosanitarie e delle norme sulla privacy. Vediamo ora le nostre Flash News. Due coppie di coniugi di 84 e 55 anni di albanesi e di 56 e 53 anni italiani sono state arrestate a Trieste dalla polizia per spaccio di cocaina. Sette in totale le persone indagate. I due albanesi rifornivano la coppia italiana che aveva trasformato il suo appartamento di via Molino a Vento in un supermercato della droga. Nel corso dell'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura e svolta dalla sezione antidroga della squadra mobile, sono stati effettuati tre sequestri di cocaina a carico di alcuni acquirenti del 56enne, uno dei quali arrestato e due indagati in stato di libertà. In alcuni casi lo stupefacente era consegnato direttamente a casa dalla moglie del 56enne, ristretto ai domiciliari dopo un'altra operazione antidroga. A quest'ultimo sono stati contestati 58 capi di imputazione relativi ad altrettanti episodi di spaccio commessi da giugno 2019 a marzo 2020. Gli operatori della stazione di forni a voltri del soccorso alpino e speleologico sono intervenuti nel pomeriggio sul monte Dobis, tra il canale del But e il tagliamento, per aiutare un anziano trovato con una ferita alla testa. A dare l'allarme è stato un giovane che stava salendo verso la cima del versante di Fusea e che ha trovato in malcapitato una quota di circa 1000 metri. Il ferito è stato raggiunto dalle squadre di terra, composte da soccorritori del soccorso alpino e della guardia di finanza, tra cui un infermiere, e poi intervenuto l'elissoccorso regionale per il recupero. Tentato furto aggravato è un esercizio pubblico. Di questo dovrà rispondere un 33enne della Val Canale, denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tarvisio. Le indagini hanno portato a scoprire che nella notte di lunedì l'uomo ha tentato di rubare nella biglietteria della telecabina del monte Lussari. L'attivazione del sistema di allarme antintrusione ha però mandato all'aria il colpo. Con una grossa leva di ferro, l'uomo aveva forzato la porta della telecabina per farsi strada verso le casse. Ritardi dei treni fino a 100 minuti sono stati registrati questa mattina sulla linea Venezia-Trieste, a causa di un guasto il sistema di distanziamento dei treni sull'unico binario attivo nel tratto tra Bivio d'Aurisina e Trieste. Il traffico, precisa rete ferroviaria italiana, è stato rallentato dalle 7 alle 10. Un treno regionale è stato cancellato, mentre altri 10 hanno maturato un ritardo tra i 40 e i 100 minuti e un intercity di 20 minuti. Se i convogli regionali e un intercity sono stati limitati e sostituiti da autobus. Fino al 29 agosto sono in programma lavori di risanamento tra Bivio d'Aurisina e Trieste appunto, per cui il binario è disparo e interrotto e la circolazione si alterna su un unico binario. Veniamo ora all'Udinese nelle immagini esclusive che tra poco vedrete le prime di allenamento di questa stagione e prosegue la preparazione dunque della squadra. Anche oggi una doppia seduta in cui il gruppo si è allenato alternandosi tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico per tutti gli effettivi. Domani ancora una doppia seduta per mettere benzina nelle gambe e preparare la prima uscita stagionale di sabato a Manzano contro il Vicenza alle ore 19 che potrete seguire in diretta e in esclusiva su Udinese TV con prepartita dalle 18.30. E a proposito sempre di Udinese, Musso e Lasagna non si vendono i due giocatori, non sono sul mercato. Lo ha dichiarato il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino che ha anche affermato che non ci sono offerte per Depola. Se una società sta da 26 anni in Serie A come l'Udinese, a quel punto si programma di poter crescere nel progetto, sicuramente non di sfaldare e di disperdere tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno che io ritengo un anno più che decoroso per come si è concluso, ma anche per il girone d'andata dove si erano fatti 24 punti che sono addirittura più di quelli fatti nel ritorno. Quindi la squadra, che se ne dica, è stata tranquilla dall'inizio del campionato alla fine. Io sono convinto che il programma dell'Udinese sarà di crescita e quindi questo abbiamo stilato. Non intendiamo sfaldare la squadra come sento dire dalle chiacchiere in giro che mi sento di smentire, di tranquillizzare tutta la tifoseria perché al momento è partito Fofanà, ma se andate a rivedervi le mie dichiarazioni di qualche mese fa non a caso avevo detto guardate che Fofanà sicuramente partirà. Quindi nessuno può dire che non si sapeva questo, nessuno può dire che se un giocatore non ti rinnova il contratto lo devi tenere e farlo andare a parametro zero, un giocatore del valore di Fofanà. Se poi la scelta di Fofanà è una scelta anche di cuore, questo la dice tutta su quello che è stata la posizione dell'Udinese. Comunque partito Fofanà è sempre tornato Barac, che è un giocatore che qualcuno aveva mugugnato quando noi l'abbiamo mandato a giocare perché qui non trovava spazio ed è un giocatore importante che tutti sappiamo ed è ancora De Bludinese. Quindi io non vedo volontà di sfaldamento. È arrivato un terzino, un esterno di destra come Molina, anche se fisicamente non è arrivato ancora solo per i problemi che ci sono in giro legati a tutte le nuove normative per ingressi, uscite, entrate dai vari paesi. Una volta che sarà arrivato Molina avremo anche sull'esterno un giocatore importante che nessuno invece considera e che io invece considero come un giocatore che viene a rinforzare l'Udinese. Non è un prospetto, è un giocatore pronto. Sono rientrati molti prestiti alla base, qualcuno con Gotti vogliamo valutarlo perché sia la società che Gotti li abbiamo seguiti costantemente attraverso i mezzi audiovisivi durante il periodo temporaneo di prestito. È vero, è partito anche sì, ma era un prestito e non è che non lo sapevamo in questo. E c'è la volontà anche di dare spazio costante a Zigalar che è un giocatore che ora solo sta ritrovando la sua forma fisica migliore dopo il lungo periodo di inattività che aveva preceduto il suo ritorno all'Udinese. Allora, su De Paul le dico, è un giocatore, è un fuoriclasse, è importantissimo per l'Udinese, non è che noi lo andiamo a offrire in giro perché lo vogliamo vendere. La proprietà, la famiglia Pozzo ha la sostanza e la solidità per garantirci che De Paul le dico non arrivasse ad avere una collocazione in una grande squadra che paghi quello che è realmente il suo valore e il giocatore sia contento perché dovremmo essere in presenza anche della felicità del giocatore. Se non succederà questo, sapete poi tutti benissimo che quando arriva il Real Madrid, il Barcellona sono squadre che nessuno può dire di no. Ogni società deve sedersi e a volte succede anche alle grandi squadre di dover vendere i giocatori quando sono richiesti a quei livelli lì. Quindi stiamo a vedere cosa succede su De Paul ma non c'è nessuna necessità di vendere De Paul. E' chiaro che bisogna accontentarlo se poi il giocatore avrà una grande squadra che terrà contento lui e contenta lui di Nese. Ma in quel caso andremo a sostituirlo e lo vorremmo sostituire degnamente. La volontà della società è di tenere musso e lasagna. Cioè qui non è che noi vogliamo, abbiamo bisogno di vendere giocatori perché abbiamo un bilancio che non sta bene oppure abbiamo una proprietà che non ha la solidità per affrontare il piano economico della stagione prossima. No, ripeto, il programma che da direttore dell'area tecnica abbiamo approvato insieme con la proprietà e con l'allenatore è quello di garantire continuità alla squadra perché è un'ottima squadra e l'ha dimostrato in molti sprazzi del campionato scorso e quindi noi non abbiamo nessuna intenzione di non far crescere questo progetto che finalmente sembra avere anche una propositività di gioco importante e una continuità tecnica con un allenatore che è anche un allenatore rampante che ha dimostrato di poter fare il primo e ora voglia di confermarsi. Siamo in chiusura. Prima di salutarci andiamo come sempre a scorrere assieme le primi pagine finora arrivati in redazione. Dovremmo averne a disposizione cinque. Allora iniziamo con il gazzettino che è in apertura ai tanti punti interrogativi che ancora incombono sul nuovo anno scolastico, sulla via a scuola. Caos, mascherine, bus, trasporti, lite, governo, regioni, distanziamento impossibile. Il comitato tecnico scientifico apre separatori tra i sediri e poi Conte non giocate sulla pelle degli studenti e Zaia si è perso tempo, ora serve buon senso. Continuiamo, andiamo rapidamente anche sul giornale. Il governo non fa i compiti, scuola in alto mare, mascherine, termometri, bus con separatori morbidi. Si torna in classe ma è caos e spunta il trucco. Bambini come congiunti, niente distanze, mai così tanti tamponi. Briatore positivo ce la conferma. Abbiamo anche Libero, 8 italiani su 10 vogliono scuole chiuse, non si fidano di questo Stato. Governo e regioni non trovano l'accordo sulla riapertura. Le idee della banda Conte sulle aule non convincono i cittadini e preparano il caos. Il Covid prende di mira più i poveri che i ricchi, così Libero. Abbiamo anche la verità, anche qui il tema delle scuole in primo piano. Forse riapriranno le scuole ma arrivarci sarà un'impresa. Incredibile stallo sulla pelle delle famiglie, siamo il paese che ha chiuso per primo gli istituti e tra gli ultimi a riaprirli. Eppure il ritardo è clamoroso, nulla di fatto al vertice su trasporto e mascherine e le indicazioni dei tecnici sono impossibili da rispettare, scrive anche la verità. Dovremmo avere a disposizione anche il foglio, andiamo a vedere il titolo in evidenza in rosso. Le parole sono queste, il modello Messi è più importante del Messi. Le parole che seguono sono le possibilità della stella del Barça di finire in Italia, sono legate a una virtù spesso rimossa del nostro paese. Attrarre talenti offrendo condizioni simili a un paradeso fiscale. Cosa può fare il governo per attirare in Italia i Messi dell'economia globale? Così sul foglio, ma ovviamente vi ricordo come sempre l'appuntamento con la nostra rassegna stampa di domattina per un confronto ovviamente più approfondito sulle principali notizie di carattere nazionale e locale, anche internazionale. Grazie, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi salutiamo con Accade Oggi. Buonanotte. Il 26 agosto 1931 nasceva dal Bairate, in Lombardia, Giovanni Invernizzi, detto Robiolina. Era un mediano che ha indossato la maglia dell'Udinese nel 1953-54 e è cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Poi la società nero-azzurra lo ha prestato, come si dice in gergo, per fare le ossa al Genoa. Poi è ritornato all'Inter, ma ha giocato poco, quattro incontri soltanto, quindi la sua carriera è proseguita sempre in prestito nella Triestina. E nel 1953-54, sempre a titolo temporaneo, l'Inter lo ha seduto all'Udinese. In maglia bianconera, inizialmente non ha giocato molto, poi ha dimostrato tutte le sue qualità. Era un mediano di buona tecnica, ma era soprattutto un combattente. In una gara con la Roma, vittoria dell'Udinese 2-1, ci furono quattro espulsi e tra questi anche lui, Giovanni Invernizzi, che, quando si trattava di non fare complimenti, era sempre in prima fila. Nell'Udinese disputò 26 incontri di campionato, più i due di spareggio contro Spal e Palermo, rispettivamente a Milano e a Firenze, nel giugno del 1964. Dopo l'avventura friulana, Invernizzi è tornato a Milano per rimanere, questa volta, in pianta stabile con l'Internazionale, con cui ha giocato sino al 1960. Poi è passato al Torino, 1960-61, l'anno dopo al Venezia, per poi chiudere la sua carriera al Como, dal 62 al 64. Nel gennaio del 1963 è però protagonista di uno scontro, diciamo fortuito, con il calciatore dell'Udinese, Arne Selmoson. Si gioca a Como, la partita è maschia e Invernizzi è vicino proprio all'asso dell'Udinese Selmoson, all'ordine di non farlo muovere, come si dice in gergo, per cui dimostra anche eccessiva grinta nel cercare di fermare lo svedese dell'Udinese, il quale ad un certo punto subisce, si dice fortuitamente, una gomitata alla schiena. Da prima sembra un banale colpo, in realtà non sarà così, perché una volta rientrati a Udine, Selmoson è costretto ad essere ricoverato in ospedale. I sanitari un primo momento dicono che si riprenderà un mese, un mese e mezzo, in realtà l'infortunio è serio e Selmoson dovrà rimanere lontano dai campi di gioco sino a giugno. Invernizzi una volta chiusa la carriera calcistica ha iniziato quella di allenatore e nel 70-71 è stato grande protagonista, una volta subentrato in corsa a Eriberto Herrera, a vincere lo scudetto con l'Inter, l'anno dopo è finalista nella Coppa dei Campioni, l'Inter perde 2-0 contro l'emergente Ajax, si gioca ad Amsterdam, l'anno dopo non va d'accordo con i dirigenti e con la vecchia guardia dell'Inter e quindi si mette da parte, in seguito allenerà anche il Taranto, il Brindisi e il Piacenza per poi tornare a Milano, Sponda Inter, di cui sarà per lunghi anni l'osservatore. È morto il 28 febbraio 2005. Grazie a tutti! Grazie a tutti!